Ci siamo anche oggi, buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Il nostro saluto, il nostro risveglio anche oggi dalla zona del Triangolo Lariano, lo faremo poi anche domani per chiudere eventualmente sabato, per farvi vedere quello che c'è davvero tanto notevole e importante qui nel Triangolo Lariano. Oggi siamo a Pognana Lario, qui dove siamo venuti qualche giorno fa per vedere la Sagra dei Gnocchi. Qui sopra c'è anche un altro pezzo di storia. Ciao Silvio, buongiorno, è il primo che ci saluta e anche Cinzia che è la Fontana Veggia. Ciao anche Giorgio e Silvia, presentissima. Ciao Silvia, come sempre, buongiorno. Come dicevo, qui ci siamo venuti qualche giorno fa. Ale, ciao, buongiorno. Per la Sagra dei Gnocchi ci sono ancora dei segnali. Buongiorno anche a Teresa e a nostra Paola di Ferrara e a Silvana che invece ci scrive da Albate. Italo, buongiorno. Francesca e Clara, buongiorno. Lorena da Sedriano in provincia di Milano. Fulvio e Pascalla che si aggiungono al coro. C'è anche l'amico Rudy. Ciao, buongiorno Rudy. Eccoci qua. Ci sono, dicevamo ancora, buongiorno anche a Giorgio, cognome importante. Ah, ok, sì, è un cognome molto importante il suo, sì. Valeria, ciao, buongiorno anche a Stefano. Vedete, stanno smontando. Ovviamente questa è la Sagra di San Rocco che si è stata il 16 di agosto. Siamo venuti, abbiamo visto come fanno i gnocchi perché qui è una tradizione sentitissima. Vedete ancora la Proloco sta smontando. Ci vuole tempo, ovviamente. Diamogli tempo ma ringraziamoli perché ce le hanno offerte, sono buonissimi. Tutti fatti rigorosamente a mano. 16 di agosto, a questo punto diciamo, del 2024. Questi sono i pentoloni. Buongiorno a Salvatorica, a Silvana, a Franca, a Silvana che saluta Lorena, Simona, Daniela, ciao Giacomina. Poi Antonio, buongiorno. Sergio, anche a te, che bel posto. Oggi vi faccio vedere Pognana Lario, anche alle otto e mezza un artigiano del posto interessantissimo. Orazio, ciao, buongiorno. Stefano e Valeria. Paolo Alberto che non manca mai. C'è anche Ramon, Gerardo Munoz che ci scrive da dove? Dall'Argentina. Eh sì, vedo la bandiera argentina. Raffaella, Anna Maria, c'è la nostra Antonia. Buongiorno a tutti. Questi sono, dicevo, i pentoloni utilizzati per cuocere i gnocchi. Questi erano veramente, eh no, sono questi. Questi erano i braceri. Questi sono i pentoloni, tantissima roba, veramente. Hanno fatto un pienone esagerato. Migliaia di persone qui, in questo punto del Triangolo Lariano. Qui dove, ho visto prima, in questo punto a Pognana, ci sono veramente tantissime occasioni per le passeggiate, sentieri, escursioni, bellissimi davvero in tutta la zona del Triangolo Lariano. Questa è, volevo farvi vedere qui la visione di oggi. A Gianno un saluto, a Marilena anche, a Silvano buongiorno, a Cinzia. E oggi Cinzia hai ragione. Temo, temo che le previsioni oggi ancora un peggio di ieri. Sarà caldissimo Cinzia oggi e ieri siamo arrivati a 37 gradi. E cosa vogliamo arrivare oggi? Credo saremo lì, 37, 38, anche oggi. Comunque, buona giornata a te, a Fabiola, che ci saluta, e poi Gianna, Cinzia, poi abbiamo Marilena, poi abbiamo Clara e poi un saluto a Graziella, a Marinella, Antonia, Paolo Alberto, Vilma, buongiorno, Salvatorica, Silvana, Franca, poi un saluto anche ad Antonio ancora, signor Marco, buongiorno Sergio, ciao, ecco qua cosa ti faccio vedere. Ciao Orazio, buongiorno anche a Stefano. E oggi Paolo Alberto è un bel posto. Passeggiate ce ne sono tante, Paolo Alberto, bellissime passeggiate. Tutto il triangolo lariano si collega Pognana, Fageto, c'è poi sopra, per i più appassionati, la dorsale, che da Blevio va fino a Bellagio. È abbastanza impegnativa, ma la si fa tranquillamente. Questa invece è la chiesa di San Rocco, alla quale è dedicata la sagra del 16 di agosto. Vedete, chiesa che si trova sulle rovine di un tempio pagano tra il 1200 e il 1300. Chiesa parrocchiale nel 1400. Qui, questo è un posto veramente splendido, lo abbiamo visto l'altro giorno, chiesa che era aperta. La chiesa di San Rocco oggi ovviamente è chiusa, che viene aperta proprio in occasione del Santo Patrono, il 16 di agosto. Da qui, ragazzi, c'è una delle viste più belle in assoluto della prima parte del bacino del lago di Como. Guardate, si vede la tremezzina quasi, si vede sicuramente Argegno, là sullo sfondo, tutti i paesi del lago di fronte. Qui c'è sotto Fageto, la punta di Torno, sullo sfondo anche Cernobbio e Como. È un posto sicuramente affascinante. Paolo Alberto, ciao, un saluto a te. Poi a Marlisa, l'amico Luigi dall'Alta Valdintelvi. Marinella, buongiorno, Salvatore, vi guardo più tardi, continua a dormire, fai bene. Saluti a Lella, saluti appunto anche a Norina. Stefano, Clara, Giuliana, ciao, buongiorno a te. Ciao anche ad Angela. Un saluto ad Adriana da Missaglia. Buongiorno, la Brianza Lecchese, Comasca, insomma, Rossella da Messina. No, Brianza Lecchese, Missaglia. E poi un saluto a Lina. Buongiorno da Voghera. Grazie, ci dice, per i bellissimi posti che ci fai vedere. Sono contento che hai apprezzato, che apprezzi. Carolina, buongiorno a te. Voghera, caldissima la zona di Pavia, la zona dell'Odigiano. Ieri mi hanno detto la zona più calda della Lombardia. Ecco, qui sotto c'è Faggetolario. Ieri eravamo giù alla riva e oggi siamo a Pognana perché continuiamo il nostro tour nel triangolo lariano. E domani saremo proprio nel clou del triangolo lariano. Vi faremo vedere altre cose davvero splendide del nostro territorio. Non tutti forse le conoscono sicuramente. Daniela, ciao, buongiorno a te. Poi c'è Italo. Paolo, buongiorno. Il posto è stupendo, Paolo, concordo pienamente. Ripeto, è uno dei più belli di tutto il territorio. La chiesa di San Rocco che è proprio sul cucuzzolo di Pognana Lario. Domini Pognana. A proposito di Pognana voglio salutare anche l'amico Andrea che lavora alla navigazione, che è al Pontile. Ieri mi ha detto, mi ha dato un video precedente. Ciao Andrea, buongiorno anche a te. Ciao anche a Cristina. Eccolo qui Andrea. Ha scritto in questo momento. Buongiorno Andrea. Ciao, un saluto a te. Moira, ciao, ma buongiorno a te. E poi ad Anna Rosa. E poi Andrea appunto che lavora alla navigazione. Cristina, ciao. Spalanca come un meraviglioso dipinto. Le acque del lago di Como. Grazie Marco. Ciao l'amico poeta Mario Gatti. Ciao carissimo Rossano. Giancarla. Poi ci scrive anche Sandra. Saluti da Barletta. Nicola, ciao, buongiorno. C'è anche Paola. Buongiorno Paolo. Paola. Riccardo da Venezia. Ciao, buongiorno. Poi Giancarla e Enrica. Abbiamo Maria Grazia. Cinzia. Italo. Anche qui non si scherza siamo già a 30 gradi. E anche qui è Italo. Mi sembra che avevo visto prima 28 gradi questa mattina. Ecco le campane di Pognana. Queste mi mancavano. Le campane di Pognana. Margherita ci saluta dalla Sardegna. Silvana. Un saluto ad Anna Rosa di Cucciago. Sì, certo, ovviamente. Molto bene. Riccardo. I posti sono bellissimi. Ieri a Voghera 38. Lì c'è Lina. Ecco, ieri ho visto infatti Lina la zona della Pavese, dell'Odigiano. Sono state le più calde della Lombardia. Le campane di Pognana per darci il buongiorno amici. Cari saluti. Buongiorno signora Lina. Un saluto a te. Ad Elisabetta. Poi ad Angelo. A Luisa. Oh, mi era sfuggito. Buongiorno a te. Malvina. Il posto è incantevole. Buongiorno anche l'amico Mario da Blevio. Ciao carissimo. Moira. Buongiorno. Poi c'è Clara che ci iscrive dalla sua vacanza. Quindi goditi la vacanza. Clara. Buongiorno. Nicola. Paolo. Ornella. Saluto la sciura Ornella. Questa settimana niente cruciverba. L'abbiamo già avuto modo di dire. Bene. Qui dalla chiesa di San Rocco. Poi c'è una delle tante passeggiate che vi portano a scoprire il territorio lariano. Ciao Ricchi. Buongiorno. Poi saluti a Giancarla. Enrica. Paola. Dolores. C'è anche lei. Un saluto anche a lei. Un abbraccio. Sempre gentilissima con noi. E poi c'è... Quanta gente. Paolo Marlis. Luigi. Fernanda. Salvatorica. Antonia. Credo di non aver dimenticato. Spero di non aver dimenticato nessuno. C'è anche Graziella. Poi si arrabbiano. Graziella. Angela. Giuliana. Paolo Alberto. Adriana. Lina. Insomma tanta gente che si sono... Credo di tu... Francesca. Poi c'è Marilena. Rosa. Maria. Buongiorno anche a Tiziano che è in Val Malenco. Nel Fresco. Spero. Un po' più di qui. Sicuramente il focacciaro Robi Lofiego. Ciao. Buongiorno anche a te. Va detto che come abbiamo detto ieri il nostro amico focacciaro c'è sempre ma anche Luca Lisino di AutoVM. Altro caro amico di Ciao Como. Buongiorno. E allora questa è la vista che si vede da qua. E' splendida davvero da Pognana a Lario dove oggi siamo arrivati. La chiesa di San Rocco con ricordatevi il 16 di agosto 2024. Vi aspettano migliaia di gnocchi. Li hanno fatti tutti a mano. Sono stati veramente straordinari. Quindi saluto ancora e ringrazio quelli della Proloco di Pognana che si danno da fare tantissimo. E ogni anno adesso avete visto e stanno smantellando perché siamo venuti qua proprio il 16 la scorsa settimana. Stavano facendo tantissimi gnocchi e adesso chiaramente devono smantellare tutto. Bene. San Rocco e la sua meravigliosa vista. Guarda che roba pazzesca. Iskra e Loredana. Poi il saluto a Rosina che non manca mai appunto. E poi Cristina. Buongiorno. Un saluto anche a te. A Micaela e poi a Rosina Patrizia. Rosa Maria Francesca Tiziano. Quanti siete anche oggi ragazzi? Grazie. Maria Croce che ci scrive da Bellaria. Buongiorno quindi. Buone vacanze. E da Pognana io vi saluto con questo scenario davvero bello e incantevole. Ci vediamo più tardi alle otto e mezza. Vi facciamo vedere qualche altra cosa di Pognana. Il punto del nostro tour di oggi del triangolo lariano. Torniamo al punto degli gnocchi qua per salutare ancora e per ringraziare gli amici della Proloco. Sono stati gentilissimi. Ci hanno invitato e quindi ogni anno sono sempre estremamente carini. Bravi e complimenti. Soprattutto complimenti per aver portato qui. Non è facile perché non ci sono parcheggi. Migliaia di persone. Sono stati straordinari. I gnocchi sono buonissimi. Bravi davvero. Ciao anche a Lorenza e poi anche a Dolores che ci saluta. C'è Francesca Dolores. Dolores carinissima come sempre. Io abito a Bellaria Igea Marina e sono nativa di Como. E allora Francesca un caro saluto. Grazie Francesca. Quindi un po' di Como te l'abbiamo portata lì. Molto bene. Va bene. Iskra e Loredana ci siamo credo tutti. Bene. Ciao Francesca. Goditi il mare. Godetevi il mare. Voi che potete. Ovviamente noi ci godiamo il lago invece. Questa la sagra degli gnocchi. Un saluto a Teresa di Copreno e lo facciamo sempre con piacere. Ciao Anna Rosa. Buongiorno a tutti. Oggi non abbiamo avuto festeggiati. Chiudo da qui facendovi vedere lo scenario straordinario. Ciao Francesca. Ciao anche a Carmen. Buongiorno. Grazie di averci seguito questa mattina. Anche dopo. è però alle otto e mezza saremo ancora a Pognana Lario. Ciao anche a Carmen e buona giornata. Emanuela ci è aggiunta anche lei. Buongiorno a tutti. Bene. Dalla sagra degli gnocchi finita. Guardate hanno fatto veramente dei numeri pazzeschi. Un saluto anche a Lori. Ciao. Buongiorno Lori. Torneremo anche in Val d'Intelvi a far vedere le bellezze della Val d'Intelvi. Ciao anche a Dolores. Scusami perché cosa non devi scusarti di nulla assolutamente. Ciao a tutti.